Con voi ci troviamo sui campi di calcio insieme ai ragazzini. Questa sera invece siamo nella sezione degli arbitri di Arezzo, dove la sezione italiana allenatori ha organizzato questo incontro con il preparatore atletico Bertini. Quindi il motivo è ben chiaro perché siete qui. Partiamo da Luceria. Siamo qui appunto per questa riunione, questo corso insomma, con Francesco Bertini, che per quanto riguarda la preparazione atletica sono così rari che quando ci sono bisogna approfittarne insomma. Concordo. Capita raramente che ci sono occasioni per i preparatori. È bene che ci sia da aggiornarci, è un momento importante per noi perché c'è sempre da imparare e questo è un momento veramente unico qui nella città di Arezzo. Quindi aspettate una gran bella serata, ricca di notizie da apprendere. Eh sì, insomma, a Francesco lo sappiamo tutti, tra professionisti, lo conosco anche tramite mio compagno, mio cugino, quindi sarà un piacere sicuramente quello di ascoltarlo e di imparare da lui, che insomma ne sa più di molti. Aspettiamo, viva, con tanta gioia e tanta voglia per l'esperienza. Anche perché voi sul campo siete impegnati con ragazzi di diverse fasce d'età. Sì, dalla scuola calcio fino al settore giovanile, i uniones, ci manca la prima squadra. Sì, dai piccolissimi, 2017, fino ai uniones, quindi la fascia è ampia. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.